Ciao ragazze, bentornate in questo nuovo video e benvenute sul mio canale. Allora, dopo questa dolcissima, gustosissima e tranquillissima colazione con una cosa che mi piace molto mangiare, diciamo, è il latte, solamente il latte, la schiuma del latte appunto con i biscotti, veramente io amo questa colazione e la faccio molto spesso. Allora, oggi voglio fare questo video per farvi vedere il metodo che io amo di più in assoluto per andare a spolverare casa. Sì che utilizzo sempre, come vedete in tutti i miei video, le salviettine, quelle cattura polvere o i panetti in microfibra, però oggi voglio farvi vedere quello che proprio mi piace tanto fare ogni tanto. Allora, quello che mi piace fare è che va a pulire veramente bene anche e soprattutto i specchi, i vetri, insomma non lascia aloni e costa poco e sgrassa e igienizza e poi basta. Allora, è l'ammoniaca, io mi trovo molto bene con questo metodo, ovvero con acqua caldissima e l'ammoniaca, non metto nessun altro prodotto e veramente rende il tutto super, ogni superficie proprio super pulita, si vede no, proprio tira fuori la lucentezza, sgrassa, toglie ogni granello di polvere e insomma è un metodo. Allora, il metodo che io devo dire la verità lo uso tutti i giorni perché per fare prima utilizzo le salviettine cattura polvere che come vi dicevo comunque mi ci trovo bene, però questo mi piace leggermente di più. Allora, il metodo che io devo dire la verità lo uso tutti i giorni. Allora, il metodo che io devo dire la verità lo uso tutti i giorni. Allora, il metodo che io devo dire la verità lo uso tutti i giorni. Allora, il metodo che io devo dire la verità lo uso tutti i giorni. Allora, il metodo che io devo dire i giorni, tutti i giorni, io devo dire i giorni, io devo dire le verità lo uso tutti i giorni. Grazie a tutti. 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 Ciao. 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 Ciao.